Carlo Torti, primario del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Materdomini di Catanzaro, fa il punto sulla situazione dei posti letto dei pazienti affetti da Covid-19. Sicuramente è necessario un aumento dei posti letto se ordinari sia in terapia intensiva e soprattutto ci dà uno spunto di riflessione e anche di analisi su quello che potrebbe essere il nostro futuro. Purtroppo del Covid-19 a suo avviso non ci libereremo tanto facilmente, cambierà così come effettivamente è già cambiata la vita degli esseri umani. Facciamo un'analisi di quella che è la situazione in relazione alla potenzialità del reparto in merito al Covid-19. Beh, cominciamo dagli aspetti positivi. Noi ci siamo dedicati durante l'estate ad allestire una terapia subintensiva con 11 posti letto collegata al reparto di rianimazione, che come sapete è anche un centro di riferimento ECMO per Covid-19 e quindi molto recentemente, per esempio, una paziente da Foggia è stata ricoverata da noi e oggi, poiché si è stabilizzata nel reparto di rianimazione, verrà ricoverata in questo reparto di subintensiva. A mano a mano in questa seconda ondata cosiddetta, il numero di posti letto è stato aumentato. Quindi oggi noi disponiamo di 30 posti letto che sono organizzati al settimo piano e al nono piano di questo corpo in cui noi ci troviamo, che è il corpo A. Tutti questi due piani sono collegati con il reparto di rianimazione, quindi usufruiscono di un percorso dedicato a questi pazienti e che rende quindi questi pazienti isolati dal resto dell'ospedale. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, positivo. I posti letto sono organizzati per intensità di cura, quindi al settimo piano noi ricoveriamo i pazienti più stabili, che sono prossimi, diciamo, alla dimissione. Nel nono piano ricoveriamo pazienti più complessi, fino ad arrivare alla subintensiva, dove i pazienti sono collegati al monitor e quindi monitorati tramite telemetria. L'altra cosa positiva è che nel frattempo ci siamo dotati di tutta la strumentazione che serve per il supporto respiratorio ed anche l'unità operativa si basa su medici che hanno diverse specializzazioni. Quindi nel nostro reparto, che è multidisciplinare, abbiamo non solo infettivologi, ma anche internisti ed anche pneumologi. Quindi questi sono gli aspetti positivi. Quali sono gli aspetti negativi? È che la sensazione che abbiamo oggi è che tutto ciò che abbiamo fatto è sulla strada giusta, ma non basta. Il sistema è sicuramente sotto stress. Il personale ci viene fornito, ma però non c'è stato il tempo di formarlo. E quindi, in particolare, gli infermieri, a mano a mano che entrano nel reparto, debbono essere formati di volta in volta. È necessario avere più posti letto, perché abbiamo richieste continue di ricovero da parte del territorio, ed è necessario avere sicuramente più personale. Adesso ci sono stati offerti bandi per il reclutamento di personale, sia infermieristico che anche medico, però questi bandi devono ancora essere sostanzialmente espletati. Questi 30 posti letto sono stati in brevissimo tempo completamente occupati. Adesso stiamo cercando di dimettere questi pazienti. È proprio di questi giorni la notizia di un'apertura di posti letto alla mezzia terme. Quindi proprio oggi stiamo dimettendo pazienti che sono sicuramente stabili, ma ancora necessitano di assistenza ospedaliera alla mezzia terme. Ci sarà un'apertura, credo nei prossimi giorni, di altri posti, cosiddetti post-covid, a Soveria Mannelli. Quindi questo ovviamente ci fa molto piacere. Però ecco, quello che stiamo notando è che a mano a mano i pazienti escono, a mano a mano nuovi pazienti arrivano. Quindi lei, con questa cosa che sta sottolineando, è che comunque c'è un aumento consistente di pazienti che arrivano qui, nonostante i posti letto che si stanno creando, forse per la direttiva che ha indicato anche il facente funzioni sia alla mezzia che a Soveria. Quindi di che percentuale stiamo parlando rispetto a marzo? Che entità? Cioè siamo tornati all'entità di pazienti che c'era stata nel primo lockdown, o comunque è inferiore? E se è simile, qual è la differenza nei pazienti? Ma dunque, la situazione, almeno dall'osservatorio del policlinico, è un po' diversa. Noi nella prima ondata cosiddetta abbiamo ricoverato particolarmente pazienti anziani che provenivano da una epidemia grossa che c'è stata, come sapete, i pazienti della casa di riposo della Domus Aurea. E poi abbiamo avuto però anche altri pazienti che provenivano per lo più da altre province, perché in quella fase il numero di casi era inferiore, e quindi l'ospedale pugliese sostanzialmente è stato abbastanza autonomo nell'espletare tutti i ricoveri che provenivano dal pronto soccorso. La sensazione, che credo sia una certezza anche rispetto al fatto che appunto l'ospedale pugliese ci ha richiesto in questa fase di intervenire con un supporto che noi stiamo dando, anche per ricoverare pazienti che provengono dal territorio e che il pronto soccorso dell'ospedale pugliese non riesce a sistemare, per così dire, nelle malattie infettive di quell'ospedale. Quindi l'afferenza dei pazienti presso il policlinico è cambiata, è cambiata moltissimo anche l'epidemiologia e le caratteristiche dei pazienti. Allora erano pazienti anziani, oggi sono pazienti anche più giovani. Per esempio ieri abbiamo avuto la richiesta di ricoverare un sedicenne che poi credo che sia stato ricoverato al pugliese, perché lì c'è pure appunto un reparto di pediatria vicino che può fornire un supporto anche in termini di consulenza. Però sicuramente l'età media dei pazienti si è ridotta. Ciò nonostante pervengono ancora pazienti in condizioni critiche, anche se c'è una percentuale di pazienti con delle infezioni lievi moderate che nella prima fase invece erano più rari. Quindi questi pazienti noi, diciamo, li osserviamo, diamo la terapia con il remdesivir, facciamo il ciclo di cinque giorni e poi siamo in grado di metterli perché le loro condizioni già all'ingresso sono sicuramente migliori rispetto a quei pazienti della domusare che erano in condizioni veramente, diciamo, tutti o quasi tutti, molto critiche. Quanto riguarda appunto le persone, i pazienti affetti da Covid-19 che da un reparto dove sono sostanzialmente sotto osservazione poi finiscono in terapia intensiva. Che percentuale abbiamo rispetto a questo passaggio e insomma le terapie intensive, il corpo di clinico, in che stato sono? Ma dunque io non dirigo il reparto di terapia intensiva che è diretto molto bene dal professor Longhini. Però vi posso dire che qui ci sono sei posti letto disponibili e questi posti letto attualmente sono completamente occupati. Su questi sei posti letto diciamo che la quasi totalità, però stiamo parlando appunto di quattro pazienti, provengono dalle malattie infettive. Cioè sono pazienti che, come lei ha detto, sono stati ricoverati qui e poi sono stati scesi in rianimazione per l'aggravamento delle loro condizioni cliniche. Su 30 ovviamente, quindi è una percentuale abbastanza ridotta per fortuna. E però, come capirete, anche il numero dei posti letto in rianimazione è molto ridotto, sono solo sei. Quindi anche in questo caso devo dire che sarebbe necessario, a mio modo di vedere, un aumento ulteriore del numero di posti letto. È un po' una piramide. Quanto più si aumentano di necessità i numeri di posti letto in malattie infettive o in reparti non intensivistici, tanto più, anche se si va verso la parte acuta della piramide, ma comunque tanto più vanno aumentati anche i posti letto in rianimazione. Le due cose vanno di pari passo, perché se poi dopo il paziente si è grava, uno deve avere la possibilità di ricoverarlo in un ambito assistenziale a maggiore intensità di cura, quale per esempio la rianimazione. Avete notizia di possibilità anche da parte della Regione, perché adesso si sta smuovendo anche un pochino tutto, visto soprattutto le questioni dei commissariamenti. Avete notizia in merito a un eventuale aumento dei posti letto standard ed eventuali miglioramenti, anche aumento dei posti letto in terapia intensiva? Vi è arrivata qualche notizia? Ma dunque, sì, si legge molto sui giornali in questo senso. Per esempio, si è letto di questo aumento sostanziale di posti letto a Villa Bianca, cosa che era stata proposta dal nostro magnifico rettore mesi fa, ma non si è poi realizzata. Questa proposta è stata giudicata non attuabile. adesso viene generata nuovamente dal Presidente facente funzioni Spirli, però certamente mettere in piedi 100 posti letto in brevissimo tempo è un po' difficile e quindi in questo breve lasso di tempo credo che l'unica soluzione sia di rendere e riconvertire ad uso di pazienti Covid posti letto di altre unità operative che sono meno necessari, in quanto sempre per ordinanza del Presidente Spirli i ricoveri urgenti presso altri reparti sono stati bloccati e quindi in questa fase ancora emergenziale sarà necessario sfruttare posti letto di altre unità operative per i pazienti Covid. Ovviamente questa cosa non può andare avanti in eterno perché comunque è necessario parallelamente garantire l'ordinario, quindi andranno ampliati i posti letto in senso complessivo sia per accogliere più pazienti Covid ma anche per continuare ad assistere i pazienti con altre patologie tipo l'infarto, i tumori ed altre che non possono rimanere comunque fuori dal percorso di cura. Quindi sarà necessario uno sforzo complessivo del sistema, un'ottimizzazione del sistema salute in senso complessivo sarà da farsi. Avete già effettuato o in programma di effettuare degli spostamenti per far spazio ai pazienti Covid come stanno già facendo all'ospedale Pugliese? Allora certamente l'abbiamo già fatto perché noi nella fase dell'epidemia di cui ho detto l'unità operativa di malattie infettive ha avuto assegnati 60 posti letto. Poi questo numero di posti letto si è contratto e sono stati ridotti da prima a 6, poi sono stati aumentati ad 8, quindi abbiamo sostanzialmente occupato un emipiano. Adesso abbiamo un piano nel corpo A e chiaramente la urologia e la chirurgia plastica hanno dovuto spostarsi laddove ci troviamo adesso, quindi al quarto piano. Poi abbiamo occupato appunto un emilato del settimo piano ed anche in questo caso altre unità operative hanno dovuto purtroppo farci posto e quindi c'è stata una riorganizzazione appunto del policlinico in questo senso. Non so cosa succederà diciamo nei prossimi giorni però appunto se fosse necessario aumentarli ulteriormente chiaramente qualcuno dovrà spostarsi e magari contrarre il numero di posti letto disponibili così da accogliere più pazienti covid. Speriamo che questo non sia necessario ma se fosse necessario ecco ci verrà detto e noi chiaramente lo faremo. Visto che ho l'occasione di parlare con lei che comunque si occupa da decenni suppongo della insomma delle malattie infettive, un'epidemia come il covid-19 così potente fa tanta paura è andata, era insomma si era paventata l'idea che probabilmente fosse quasi terminata con l'arrivo dell'estate così non è stata, adesso si parla di un vaccino ma insomma le persone stanno facendo dei sacrifici ma dal punto di vista dell'epidemia in sé, secondo lei quando sarà possibile prendere un po' di fiato? Insomma quando secondo lei i contagi diminuiranno? Ma direi che questa diciamo fase dell'epidemia era in qualche misura prevedibile purtroppo da molti negata forse anche per la paura che potesse succedere, no? Perché quando una cosa fa molto paura ovviamente la si scotomizza come si dice cioè si cerca di evitare di pensarci però anche in un confronto pubblico che io ho avuto col professor Zangrillo ho sostenuto che l'epidemia non fosse esaurita ma che ci fosse comunque un contagio in corso tra pazienti che erano asintomatici quindi un sommerso che non si vedeva e che adesso invece purtroppo è esploso. Che fare? Il lockdown? Il lockdown certo non è una cosa che viene ben vista da nessuno nemmeno da me soprattutto non è ben vista dai commercianti, da chi diciamo conduce attività produttive però purtroppo è necessario quindi più che fare delle previsioni voglio esprimere delle speranze cioè che effettivamente noi come persone di questa regione abitanti del mondo siamo coscienziosi accettiamo diciamo anche quelle che sono le misure più più stringenti del lockdown e così facendo potremmo perlomeno limitare ecco perché non sarà possibile in questo modo eliminare o eradicare l'infezione e l'epidemia ma perlomeno limitarla così che quel numero di casi gravi sia più ridotto e quindi gli ospedali abbiano la possibilità di smaltire i pazienti che vengono ricoverati. Non credo che l'epidemia finirà tanto presto almeno non fin tanto che ci sarà una estensione della copertura di un eventuale futuro vaccino. Adesso è stato annunciato un vaccino prodotto con l'RNA del virus che è in grado di generare una proteina spike del virus completa e quindi molto immunogene protettiva nel 90 per cento dei pazienti però ci sarà da capire se tutti i pazienti vaccinati rispondono allo stesso modo i pazienti immunocompromessi o i pazienti anziani risponderanno altrettanto bene rispetto ai giovani. Noi questo ancora non lo sappiamo. Quanto durerà l'immunità provocata da questo vaccino? Ogni quanto tempo sarà da ripetere il vaccino? Non lo sappiamo. Quindi sicuramente ci sono dei punti interrogativi. Il virus sarà con noi credo a lungo. Ci sarà da contenerlo, da limitarlo. È come avere un animale rabbioso che noi cerchiamo di calmare però purtroppo non potremo ucciderlo secondo me tanto facilmente. Cambierà in sostanza la vita dell'umanità per tanto tempo perché tante attività chiuderanno perché se questa cosa andrà avanti per tanto tempo sicuramente siamo già in lockdown diciamo un pochino più più soft rispetto a quello di marzo ma voglio dire presto andremo sicuramente in lockdown quindi cambierà la vita per sempre? Ma io credo che la vita sia già cambiata in modo molto sostanziale. Devo dire che probabilmente per certi aspetti la nostra vita è anche cambiata se vogliamo in meglio per questo senso di responsabilità che abbiamo acquisito anche recuperando determinate misure di cui ci eravamo dimenticati ma che sono assolutamente molto importanti come per esempio l'igiene delle mani di cui non si parlava più ma fin dal 1800 Semmelweis aveva scoperto che lavarsi le mani vuol dire prevenire infezioni ospedaliere. tante cose di cui non si parlava ecco sarebbe bene invece ricordarsele che 10.000 persone tutti gli anni muoiono nel nostro paese per infezioni ospedaliere cioè acquisite nell'ambito sanitario e in larga misura diciamo che si possono evitare con alcune di queste misure che noi oggi enfatizziamo ma che sono sempre state e continueranno ad essere molto importanti tipo il lavaggio delle mani. certo la mascherina è qualcosa di naturale che diciamo non abbiamo mai portato così come le stiamo portando oggi e spero che un giorno potremo diciamo come dire portare meno e quindi diciamo è qualcosa che ci pesa di più come anche il distanziamento come anche la chiusura dei locali ma questo secondo me verrà meno sicuramente potremo recuperare una vita quasi normale. non dimentichiamoci però mai delle malattie infettive che ci sono sempre state e sempre ci saranno e per me che frequento l'africa anche per ragioni accademiche assistenziali ho da tempo capito che mentre in quei paesi le malattie infettive sono ricordate sono tenute presente anche per evenienze di altre epidemie tipo per esempio l'ebola e quindi paradossalmente loro erano più preparati a far fronte a questa emergenza rispetto a noi che ci siamo molto concentra. di cui dovremmo ricordarci di cui dovremmo ricordarci grazie 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 grazie